Radio Radicale, siamo con Augusto Minzolini per parlare del caso su Maria Elena Boschi dopo l'audizione di Vegas in Commissione Banche. Allora, che giudizio puoi dare di questa vicenda per la polemica politica che ha procurato al governo e per le richieste di dimissioni che vengono indirizzate a Maria Elena Boschi? Esulando la vicenda in sé, prendendo i caratteri generali, a me sembra un altro episodio, un altro capitolo del linciaggio che molto spesso spinge questo paese a liquidare il tutto, crisi profonde che hanno creato problemi enormi con l'individuazione del solito capo espiatorio. Immaginare che la crisi del sistema bancario italiano sia tutta legata alla vicenda di Banca Etruria non fosse altro per le proporzioni, un po' fa sorridere. Lì ci sono delle responsabilità, ma sono responsabilità che non guardano tanto il fatto di aver detto la verità o meno. In un paese come questo, in cui c'era un ex segretario di un partito, andai in Africa ed è rimasto in Italia. Un altro si è dovuta dimettere dalla politica ed è rimasto in politica. Un altro ministro, credo, non mi ricordo bene, ha detto che c'era la laurea e non ce l'aveva. La bugia mi sembra che è abbastanza comune. Lo dice uno che quando si è preso un impegno di dimettersi, anche non dovendosi dimettere, ma soltanto per averlo detto lo ha fatto, quindi posso permettermi di fare questo appunto. Il punto centrale invece è che secondo me non sta emergendo nella commissione banca, e l'inchiesta sulle banche, è che c'è un problema proprio strutturale del nostro sistema che crea non una vicenda etruria, ma una vicenda MPS, Anton Vennera, Banca Marche. Ed è un problema di fondo, proprio nel tipo di logiche che vengono seguite, che non sono più quelle che dovrebbero appartenere, specialmente in una fase di crisi, come quella che è stata, a un sistema bancario sano, cioè interventi per tenere in piedi un'economia in difficoltà, e che invece vanno avanti per altre vie, che possono intervenire sia sulla politica o anche rispetto a rapporti preferenziali con determinati gruppi che hanno la possibilità di imporre la propria volontà o di avere un rapporto privilegiato con le banche. Nelle parole di Vegas, hai visto la volontà di pressione da parte della Boschi? Ma in Vegas dice di no. Io dico una cosa, non so se era opportuno o meno che lei ponesse quella questione, però di fatto l'effetto non c'è stato, tanto per essere chiari. E ti dirò un'altra cosa, se come dicono lei, io non lo so, è intervenuta per sconsigliare una fusione tra Banca Etruria e la Banca Popolare di Vicenza. Beh, secondo me una cosa del genere è stata una scelta opportuna, perché noi avremmo creato una condizione in cui a un piccolo buco se ne aggiunge un altro più grande e avrebbe creato una sorta di baratro. Quel baratro avrebbe creato le condizioni per cui quel baratro era talmente grande, per cui ci doveva essere un intervento più o meno camuffato dello Stato per non creare una grande crisi. Invece in questo modo si è evitato, perché c'è anche una filosofia di dire facciamo un grande disastro, perché il grande disastro si forza dietro l'emergenza e quindi di fatto si risolve il problema chiedendola sempre un contributo ai singoli cittadini. Questa volta c'è chi ha pagato, io credo che i risparmiatori dovrebbero essere risarciti, ci dovrebbero essere delle questioni penali che dovrebbero essere condotte fino in fondo se qualcuno ha sbagliato, ma non altro. Anche perché noi parliamo tanto di Banca Etruria, ma a 150 km da lì c'è una banca che ha avuto un buco 30 volte più grande, parlo di MPS, è addirittura un morto e di questo non se ne parla o se ne parla pochissimo. Si è diventata anche una banca di Stato. Una banca di Stato, quindi ti dicevo prima quando ti ho fatto, meno male che non è stato, perché noi avremmo avuto un'altra banca di Stato se il buco si fosse allargato, se ci fosse stata quella fusione, ma soprattutto a me mi colpisce che una settimana fa, tu lo sai che io sono un garantista, però non è possibile che i vertici di allora, Mussari e via, vengono assolti sulla vicenda del problema centrale lì che era il derivato Alexandra e non si sa chi era la responsabilità, perché o quelli hanno sbagliato, e loro dicono che non hanno sbagliato, o non ha vigilato Banca Etruria. Invece questa cosa qui che è centrale, che è un elemento su cui uno dovrebbe ragionare, viene assolutamente avulsa dal dibattito che noi stiamo facendo sulle banche. Travaglio? No, no, assolutamente no. E lo scontro tra Laboschi e Travaglio, come ti è sembrato con le accuse, diciamo, della Boschi nei confronti di Travaglio di misoginia? No, forse diciamo tra le tante cose quella che mi hanno convinto, che non mi hanno convinto della Boschi è esattamente questa o quell'altra cosa dell'appuntamento di prima mattina, queste sono scemenze, ma non mi ha convinto neanche Travaglio, perché Travaglio mi sembra che affronta ogni questione con il piglio del giornalista giudiziario, ma diciamoci la verità, quando parliamo della storia del Paese, quando parliamo di questioni ben più grandi, io credo che a un certo punto uno dovrebbe avere anche una apertura mentale nell'affrontare i problemi che non è proprio quella di qualcuno che prende le carte da questo o da quell'altro PM. Bene, io ti ringrazio, ringrazio Augusto Minzolini.